salve buon pomeriggio questo è un assolato e direi anche fruttato e verduroso video haul riunisco qui in questo video due pacchetti lo spacchettamento di due pacchetti uno a dire la verità l'ho già spacchettato un paio di giorni fa infatti non ho più la bustina che mi sono arrivati direttamente dal continente americano un paio di giorni fa questa bustina bianca mi è arrivata questa mattina questi due mi sono arrivati qualche giorno fa vi sto parlando dal non so che giorno sia oggi 21 22 di gennaio una cosa di questo genere e quindi procedo allora il primo pacchetto mi è stato inviato da benedetta benedetta è una mia amica marchigiana che però adesso anche guardatrice dei miei video che però adesso non è più nelle marche ma si trova nel continente americano e allora giustamente ha pensato e l'ho apprezzata moltissimo per questo ha pensato di inviarmi per natale un rossetto di birds bees come sapete se non lo sapete sapevatelo ed è sempre una citazione da cura da corrado guzzanti i rossetti di birds bees non sono mai arrivati in europa insieme con benedetta abbiamo concordato il numero 500 che si chiama nile nude che poi però nel momento in cui è arrivato e ho visto come è fatto vedete il colore è questo è un rossetto molto bello ed è un nude proprio totale ma è un sacco nude vedete che infatti è dello stesso colore dell'interno della mia mano e io nel monitor della fotocamera lo vedo quasi scomparire mimeticamente con il contatto con i colori della dell'interno della mia mano e è molto nude questo sulle mie labbra tuttavia con tutto un gioco di matite che aiutino il colore ad essere meno nude è lo stesso molto molto utilizzabile è molto confortevole l'ho già usato un paio di volte ci sono uscita già un paio di volte non è completamente coprente ed è un po' sheer però è veramente molto 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 confortevole perché ha tutte le proprietà di un balsamo per le labbra ma in più potenziato dalla colorazione tra l'altro esistono tante colorazioni di questi rossetti e l'astuccio è veramente carino stefan si trovava a passare quando ho visto questo astuccio ed è rimasto molto piacevolmente impressionato dal design e buh non so perché questi prodotti non ci sono in italia in in europa volevo dire tra l'altro i prodotti di birds bees si sono moltiplicati triplicati quadruplicati e quintuplicati negli anni e negli stati uniti e in america del nord ne esistono veramente veramente tanti adesso e alcuni sono proprio interessanti però purtroppo non si vendono in europa vabbè mettiamoci una pietra sopra e calmiamoci e poi benedetta non me l'ha detto ma in realtà nel pacchetto è incluso anche questo che è un badger e benedetta ha legato un foglietto anzi sulla carta sull'incarto del pacchetto aveva scritto una cosa del tipo non potevo includere e poi non potevo includere ciò che infatti ho incluso una cosa del genere ossia un badger poi chiacchierando mi ha detto che era indecisa se mettere il balsamo alla profumazione cioccolatosa caffettosa oppure questo e io l'ho detto benedetta ma questi sono i miei due balsami preferiti per le labbra quindi uno vale l'altro è fatto benissimo a mandarmi quello alla menta quindi adesso ho un badger cicciotto bello pronto da usare e mi viene proprio in aiuto tanto perché questi sono periodi di grandi labbra problematiche e screpolate a causa di tutta una serie di fattori non ultimo il fattore salute e poi c'è quest'altro pacchetto questo è un pacchetto di every day minerals e corrisponde ad un ordine stefan mi ha aiutato a tagliare via sapientemente l'indirizzo cioè sembra che non abbia mai avuto indirizzo questo pacchetto invece era qui ed è stato tagliato via e questo è un ordine che io ho fatto sul sito di every day minerals statunitense pochi giorni prima di natale perché c'era un'offerta e l'offerta consisteva in tutti i pennelli a metà prezzo io poi alla fine di pennello non ho preso soltanto uno e anzi vorrei farvi vedere qui questa lista questa è la lista delle cose che io ho acquistato vedete c'è il prezzo in dollari e poi c'è il totale ho speso 20 dollari e 60 cent e questo 7 dollari questo è il prezzo del pennello che era un pennello che originariamente costava 14 dollari e invece questi due 40 due 40 due 40 sono quattro ombretti non so se c'è anche un blush non mi ricordo in questo momento e potete leggere anche qui quali sono i nomi dei prodotti she's complete eye shadow baby in formato baby poi she's freedom eye shadow in formato baby she's immaginative perché non c'è secco a parlare in nessuna lingua eye shadow in formato sempre baby she's love eye shadow in formato baby e poi natural products for personal use questo sarebbe il pennello queste sono tutte le cose che io ho acquistato e volevo mostrarvi questa cosa perché è interessante everyday minerals non mette mai dentro il pacco un foglio con il riassunto di tutto l'ordine non lo manda neanche via mail è consultabile l'elenco di quello che voi avete ordinato il giorno in cui avete fatto l'ordine quanto avete speso solo sul vostro account di everyday minerals sul sito di everyday minerals oppure a volte scrive tutto qui sulla facciata della bustina in questo caso si tratta di una bustina veramente molto molto piccola tra l'altro qui c'è scritto in caso di mancato recapito rispedire a e c'è un po box in svezia tutto questo mi sembra molto interessante e c'è anche il sigillino della dogana tedesca è stato controllato dalla dogana però a me è stato mandato direttamente al recapito che io avevo indicato quindi non è stato bloccato dalla dogana questo pacco perché appunto ho speso meno di 50 euro generalmente quando si spendono più di 50 euro il pacco viene bloccata la dogana e bisogna aspettare un po di più questo almeno per quanto riguarda la germania allora io estraggo il pacchettino così il pacchettino è naturalmente adorabilmente ecco finalmente un po di luce è adorabilmente impacchettato qui nella carta di everyday minerals quindi noi però selvaggiamente rompiamo la carta di everyday minerals almeno un po vedete che carina che è questa carta io infatti ritaglio sempre pezzetti della carta di everyday minerals e poi me li attacco nel diario che non è un diario è un taccuino in realtà guarda c'è tutto il disegnino dei pennelli allora questo è il contenuto del pacchetto dunque che cosa ho preso? ho preso due pennelli e i pennelli sono questi qui ancora un altro pennello di questi mini fatto in questa maniera e io un pennello così l'avevo già preso nel mio ultimo ordine però ne ho voluto prendere un altro perché mi piace particolarmente questa forma mi è molto 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 congeniale questo è un pennello mini poi siccome questi pennelli costano proprio poco mi sembra di aver pagato questo 2 dollari o 3 dollari una cosa del genere e questo era un pennello che volevo prendere da anni ma che non ero disposta a pagare i prezzi che ci sono in Germania per questo pennello non in Germania ma insomma in Europa questo si chiama Double Perfect Eyeshadow eyeliner brush ed è fatto in questo modo è un pennello molto molto simpatico ecco che la fotocamera di nuovo sta diventando un po' buia io non capisco da che cosa dipende questo buio e non so come modificarlo dei riprenditi fotocamera comunque il pennello è questo un double ended e per me sono molto molto pratici questi pennelli diamo anche un'occhiatina al cartoncino che è il solito cartoncino di Avery Day Minerals che è arrivato insieme al pacchetto e poi ci sono gli ombretti gli ombretti sono questo che si chiama She's Love cerco di nuovo di far tornare la luce non so se ci riesco però a quanto pare no dunque questo è l'ombretto che si chiama She's Love ed è un marrone un marrone abbastanza scuro scuro però ancora molto cioccolatoso poi c'è un altro marrone ma più color carne più in direzione color carne che si chiama She's Freedom She's Freedom volevo prenderlo già un paio di anni fa ma poi mi sono decisa per un altro ombretto e quindi questo l'avevo lasciato perdere e poi c'è quello che si chiama non lo so Immaginative She's Immaginative mi piace dire immaginative perché mi suona buffo mi suona come potrebbero dire tipicamente e questo è anche un color carne però un color carne più pescato più chiaro decisamente più chiaro e poi c'è l'ultimo che è un grigio ho voluto tentare un grigio e questo è quello che si chiama She's Complete ed è fatto in questa maniera è un grigio però non è completamente grigio è una specie di grigio verde per questo l'ho preso e insomma 20 euro di prodotti un qualcosa di molto grazioso naturalmente si deve far sentire l'uccellino perché altrimenti non è contento e si fa sentire proprio mentre io vi saluto e vi lascio e vi rimando al prossimo video ciao grazie in realtà sono ancora qui qui vedete i quattro ombretti e vedete anche i loro nomi e nello stesso ordine e qui vedete nello stesso ordine dicevo come si presentano gli ombretti sulla pelle e vedete che questo grigio in realtà è una specie veramente di verde grigio o perlomeno io qui nella realtà lo vedo così questo credo che voi lo vediate giallognolo in realtà è un pescato acceso ma allo stesso tempo molto delicato così come questo che è un po' lo stesso colore solo di qualche tono più scuro e tutto sommato anche questo che è ancora più scuro e questo finalmente è veramente tutto ciao